Siete tutti arruolati nella più dura, inflessibile, irresistibile Accademia di Polizia Sarete agli ordini del comandante Lazard Non ti vuoi avere fermo a lasciare della polizia Dove hai preso questa pistola? È un regalo della mamma Scuola di Polizia Domani sera alle 21 su 27 Secondo appuntamento con i cadetti più improbabili del mondo Siete qua dentro? È ora di penetrare nella scuola Io ci penetro quando mi pare Scuola di Polizia 2, prima missione Domani sera alle 21 Tu ci penetri adesso, hai capito? Su 27 Siamo costretti a chiudere una delle due scuole Vedremo quale scuola sopravviverà Se il comandante chiama Lassare nei guardi Gli ex cadetti Sono sempre pronti Sto arrivando Con le nuove reclute e il vostro aiuto So che potremo superare la prova Chiudete il pecco, mettete giù il culo Duratevi le orecchie Così va meglio Scuola di Polizia 3 Tutto da rifare Domani sera alle 21 Su 27 Programma firmato Lazard Cittadini, occhio alla pena È un programma di collaborazione con la popolazione Per l'Accademia di Polizia Più strampalata del mondo La 44 Magno ma un forte In culo Allora, chi viene a salvarmi? Disciplina Scuola di Polizia 4 Cittadini in guardia Domani sera alle 21 Su 27 Sei quello che dovrebbe lavorare con me? E ci aiuterà a stanare quei parchi Eccellenza Ho proprio la gente adatta per questo lavoro È una mazzetta schizza vernice Si attiva appena la porti fuori dalla banca Lasci stare, sergente Gliela porto io Non credo che Lei può andare, sergente Commissario Scuola di Polizia 6 La città è assediata Domani sera alle 21 Su 27 Ragazzi, partiamo tutti per la Russia Polizia e maricona Collobro con Polizia Russia Faremo sapere a quel mafioso che siamo qui Il comandante Lazard Chi manda i suoi saluti Voi ti sono dato vostro uniforme Tacca il barri e combisci con la macchina Presa Scuola di Polizia 7 Missione a Mosca Domenica alle 21 Su 27 Chia Troppo 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 �